siamo alla marina di cancun guardate quanti yacht quale sarà il nostro oggi andremo a oggi cosa festeggiamo grace il mio compleanno mi hanno già gonfiato il gonfiabile eccolo qua lo yacht che ha riservato grace andiamo a vedere wow guardate che spettacolo wow tutto per noi oggi è spettacolare saliamo grazie spettacolo ma cosa c'è di pranzo pizza panini poi ci sono empanadas dove sono empanadas andiamo andiamo dove siamo ragazzi siamo davanti è una delle spiagge più belle dei cittadini in le con lo yacht di fuori c'è mettevi conto mamma mia siamo arrivati a isla bucchere spessamente a fly a norte guardate quanti yacht è una delle spiagge più belle dei calabi qui in messico wow spettacolo wow 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 Spettacolo ragazzi Spettacolo ragazzi Spettacolo ragazzi Spettacolo ragazzi Spettacolo ragazzi Spettacolo ragazzi Spettacolo ragazzi